Risultato ad occhiali tra Real Giulianova e Atletico Terme Fiuggi nella prima stagionale del 2021. I giallorossi conquistano il primo punto tra le muramiche del Fadini ma sprecano il regalo della Befana sbagliando nel finale un calcio di rigore con Campagnacci che pesa come un macigno sull'economia del match. Senza Cristiano Delgrosso che ha lasciato il Giulianova per accasarsi alla casertana, Federico Delgrosso arretra d'Anna in difesa con D'Antonio sull'out di sinistra. Spazio a Mariani a centrocampo mentre in avanti Campagnacci, Pedalino e Antonelli formano il tridente offensivo. Incocciati fa esordire dal primo minuto in difesa il neoagrivato Mario Esposito, Proia detta i tempi a centrocampo mentre il terminale offensivo e il giovane 2002 Cifarelli supportato da Basilico e Bittaie. Dopo una prima fase di studio al diciottesimo a farsi pericoloso e il Fiuggi sugli sviluppi di un calcio di punizione Forgione di testa spedisce la sfera non lontana dal palo sinistro della porta a difesa da Amadio. La gara è agonisticamente combattuta dalle due formazioni ma offre poco spettacolo e scarse occasioni. Sono gli ospiti a provare a fare la partita e a conquistarsi al trentatreesimo un calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore che Basilico però spedisce alto oltre la traversa. Ancora laziali al trentottesimo pericolosi con Proia la gran botta dalla distanza del centrocampista termina fuori di poco. Il Giulianova fatica a creare occasioni e l'unico episodio da segnalare al quarantaquattresimo è quello che vede protagonista Antonelli che recupera palla al limite dell'area ma la conclusione è imprecisa. Cambia poco anche nella ripresa in campo tanto agonismo ma poca incisività. Prova a inserire forze fresche del drosso al decimo richiamando in panchina Antonelli e gettando nella mischia barlafante ma due minuti più tardi sono gli ospiti a farsi pericolosi. Turzo se ne va sulla sinistra e trossa in area per Forgione che tenta l'acrobazia senza fortuna. Il Giulianova replica al venticinquesimo con un cross velenoso di paudice dalla destra ma sulla linea Turzo è il più lesto a intercettare e spazzare la propria area di rigore. La gara non si sblocca ci vuole un episodio che arriva puntuale al quarantunesimo quando barlafante si incunea in area e viene messo giù. Per Natilla di Molfetta ci sono gli estremi per il calcio di rigore ma campagnacci dal dischetto non angola abbastanza Novi intuisce e blocca a terra per la disperazione dei giugliesi. Nel finale si accendono gli animi per una palla contesa ne fa le spese Costa in panchina che viene ammonito. Dopo 5 minuti di recupero termina così 0-0 una sfida che evidenzia la poca incisività in avanti delle due squadre un punto che lascia tanta amarezza tra i giallorossi per non aver conquistato l'intera posta in palio e il direttore sportivo annuncia per domenica prossima l'arrivo di un difensore e un centrocampista a rinforzare la rosa. Però sono errori che si commettono quindi non è giusto colpevolizzare questo errore. però ci prendiamo questo punto zero gol subiti non abbiamo rischiato quasi nulla abbiamo creato qualcosina quindi alla fine poi sapevamo che era una partita alta sul ritmo agonistico purtroppo il campo non permette delle grandi giocate abbiamo rischiato qualcosina noi tra l'altro nel primo tempo complicarci la vita da soli però ecco tutto sommato con il morale che ha la squadra secondo me è un buon punto sappiamo quali sono i nostri limiti però mi interessa preferisco ecco esaltare quello che i ragazzi hanno fatto di buono perché la società mi sta mettendo a disposizione insomma dei ragazzi competitivi per raggiungere la salvezza quindi aspettiamo dobbiamo lavorare un passettino alla volta raggiungeremo questo obiettivo sì sì però Incocciati deve dirmi anche cosa ha fatto di buono il fiuggi è una partita da pareggio quindi anzi potevamo vincerla noi quindi Incocciati pensasse al fiuggi io penso al giugno noi rivendichiamo la possibilità di rifarci la prossima volta anche perché stiamo per completare la rosa con giocatori di categoria che arriveranno a breve quindi questo ci dà speranza e fiducia dove? in quali ruoli arriveranno questi giocatori? dove il Giulianova in questo momento ha più bisogno secondo lei? c'è qualche nome che possiamo fare? sì al momento subito arriverà un difensore di categoria e un centrocampista successivamente vauteremo anche la possibilità di acquistare una punta sperando di trovarla sul mercato dei professionisti o sicuramente di valore che accrescerà la rosa di questa squadra quindi tre saranno i giocatori che andranno a completare a rinforzare la rosa del Giulianova o ci sarà anche qualche altro innesto? no momentaneamente due nell'immediato per domenica successivamente abbiamo la possibilità del tempo che ci consente la possibilità di intervenire sul mercato quindi guardiamo con riflessione non ci affrettiamo vogliamo semplicemente mettere delle colmare delle lacune là dove sono evidenti le partite si vincono quando riesci ad essere determinante in zona goal perché insomma per il resto direi che in fase di non possesso siamo stati abbastanza accorti abbiamo gestito bene la gara abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco a mio parere e quindi ho poco da da recriminare i miei ragazzi però bisogna essere più cattivi in zona goal bisogna capire che questo gioco per vincere bisogna fare goal altrimenti poi si rischia di prenderlo anche per un episodio avverso come ci sta accadendo da diverse settimane e anche oggi grazie al nostro portiero l'abbiamo sventato quindi speriamo che anche questo aspetto venga messo da parte però noi abbiamo necessità come dicevo prima di essere più cattivi in zona goal anche se ci mancano degli uomini importanti che stiamo recuperando nella speranza che quanto prima possano tornare in mezzo a noi